Ciao cari amici di AndroidBlog.it, un saluto da Andrea Aglias il Bulgaro, eccoci qui con il mio Samsung Galaxy S3 per fare un breve video di anteprima per quanto riguarda quello che sarà il futuro aggiornamento a Jelly Bean 4.1.1 per questo device Samsung. Ovviamente non è l'OTA definitivo ma è una delle ultime leak, ovvero una versione di beta testing che però ha raggiunto uno stadio di quasi perfezione e potrebbe essere quasi pronta per la versione definitiva, quindi non deve veramente mancar poco. Andiamo a vedere cosa è migliorato rispetto a Screen Sandwich che già era un ottimo software per questo device. La schermata di sblocco è la stessa animata con la goccia, vediamo la modifica qua in basso che non sono più solo un massimo 3, i 4 scusate i collegamenti rapidi ma sono fino a 5. Sblocchiamo, vediamo già l'animazione di sblocco un po' più rapida, sono cambiate anche le animazioni di transizione che riprendono un po' quelle di Jelly Bean, un po' anche sono leggermente modificate da Samsung, sono molto più piacevoli nell'utilizzo. La grafica del launcher Samsung non è modificata, è la medesima, è semplicemente molto molto più fluido, molto più piacevole nello scorrimento e questo è grazie all'effetto burro che Jelly Bean porta con sé. La stessa cosa vale anche nel menu delle applicazioni, però soprattutto qua nelle applicazioni ma nei widget per esempio adesso sono già stati caricati ma se il widget deve caricarsi, la schermata di widget deve caricarsi, se io sto già scorrendo qualche rallentamento si ha. Questo può essere solo un problema del launcher Samsung che deve ancora correggere qualcosa prima della list finale, dato che provando per esempio su Nova non riscontro questo problema, rimane sempre fluidissimo anche quando deve ancora caricare le pagine dei widget, io sto già scorrendole. Per quanto riguarda invece la barra delle notifiche abbiamo una leggera modifica grafica, troviamo la data e l'ora come su Jelly Bean stock dei vari Nexus, il tasto delle impostazioni qua in alto, poi per il resto non cambia più di tanto, dato che questi sono i classici collegamenti alle impostazioni rapide a scorrimento orizzontale che già c'erano prima, gestione dell'omogeneità come prima e poi quello che cambia è un po' la gestione delle notifiche, dato che come è normale che sia su Jelly Bean se si trascina verso il basso si ha una preview di quella che è la notifica, con alcune notifiche come per esempio quella delle chiamate perse si può accedere anche direttamente a tasti che ci permettono di richiamare o di rispondere direttamente al messaggio. In questo caso ho 5 mail non lette, quindi non me le fa vedere tutte, mi fa vedere solo una preview del testo dell'ultima, ma se per esempio sono 2 o 3 mi fa vedere l'elenco delle 3 notifiche perse. Ovviamente trascinando verso destra si va a cancellare la notifica. Per quanto riguarda cambiamenti nella home si possono riscontrare, ecco vedete quello che dicevo prima, alcuni laggettini nel caricamento dei widget, però come ho detto non è presente con altri launcher. Sono alcuni widget nuovi, contatti preferiti, applicazioni preferite, poi c'è anche impostazioni preferite e sono widget che vengono utilizzati per un'impostazione particolare che Samsung ha introdotto che vi mostrerò appena dopo. Andiamo a vedere altri cambiamenti per quanto riguarda il software Samsung, andiamo nelle impostazioni, dato che siamo qui, vi faccio vedere subito la versione software, dicevo prima la DLI2 che è una leak datata 5 settembre. Dicevo prima widget nuovi, widget nuovi che ti vengono gestiti da questa impostazione qua, che è la modalità di schermata iniziale, modalità base che è quella di personalizzazione dell'utente iniziale, poi modalità facile che se applicata va automaticamente a sostituire la home con tutti i widget qua che vi ho mostrato prima, che vanno un po' a integrare insieme quelli che possono essere gli elementi principali e che possono essere quelli più utilizzati del device a facilitarne la gestione. Poi ovviamente se si va a riselezionare la modalità base viene ripristinata quella che era la personalizzazione fatta dall'utente senza andare a cancellare niente. Qua vediamo anche modalità di blocco, che è una modalità molto interessante che permette, se attivata, di disattivare alcune funzionalità come i chiamati in arrivo, notifiche, sveglie, indicatori, eccetera. Disattivarle sempre oppure se attivata e impostato un timer, diciamo che disattiva solo in quell'intervallo di tempo e poi anche per esempio bloccare solo alcuni contatti, quindi sbloccarne altri, eccetera. Quindi la funzione è abbastanza interessante. Vediamo che comunque anche un po' il menu delle impostazioni è modificato, alcuni elementi sono stati spostati, qua vediamo la gestione dell'account come è normale in Jelly Bean che non è più nella sezione account e sincronizzazioni ma fa vedere ogni sincronizzazione separata e poi per il resto non si hanno grandi modifiche. Una modifica si ha nella gestione del multitasking tenendo premuto, si ha ovviamente cancella tutto, accedi alla gestione dell'attività e poi Google Now. Google Now che si può cedere da qua, però prima volevo mostrarvi la gestione dell'attività, accedendo da qui così vi faccio vedere anche che le animazioni di transizione sono un po' differenti. Vediamo che la memoria RAM non è più di 780 MB circa come Ice Cream Sandwich ma di 833 MB. Memoria RAM che potrebbe anche aumentare rispetto a questa leak nella versione definitiva dato che già su questa versione rispetto alla beta precedente la RAM disponibile per l'utente è aumentata quindi possiamo anche immaginarci possibili e ulteriori miglioramenti software che vadano ad aumentare la RAM disponibile per l'utente. Come detto prima andiamo ad accedere a Google Now, Google Now si accede da qui, Google Now funziona perfettamente qua l'ho impostato leggermente, non ho ancora avuto tempo di smanitarci tanto con questa applicazione preferivo un attimo personalizzare e provare a gestire le varie impostazioni di altre cose e comunque funziona tutto. Proviamo anche la tanto attesa e acclamata ricerca vocale migliorata da Google che ovviamente funziona anche in italiano, non dà le risposte belle vocali come invece è disponibile nella versione inglese quindi se si imposta la lingua inglese però le risposte le dà andando a fare delle ricerche in rete però capisce veramente tutto, fa veramente quello che deve e lo fa bene. Quanto fa 3 più 4? Come vedete capisce abbastanza bene quello che gli dico, la risposta è data dalla ricerca di Google invece l'avevo provato anche nella versione con la lingua impostata in inglese e in questo caso 3 più 4 mi avrebbe risposto, la risposta è 7 con il sintetizzatore vocale quindi qualcosa un po' gestito meglio in inglese però vabbè ci accontentiamo di quello che ci arriva qua in basso troviamo già la possibilità di switchare in altre modalità ricerca come luoghi e immagini e poi comunque diciamo un'applicazione molto interessante che vedrò di approfondire e conoscere un po' meglio nei prossimi giorni altro da dire diciamo che non c'è molto quello che è stato modificato nel sistema è un po' tutto questo le grandi modifiche sono a livello di performance e queste che sono migliorie quelle delle notifiche vedete qua migliorie che Jelly Bean introduce di suo ma non sono particolari migliorie portate da Samsung quindi direi che per questo breve video è tutto quindi un software ormai quasi pronto molto prestante diciamo e che quindi fa veramente ben sperare per quello che sarà l'aggiornamento definitivo direi che quindi è veramente tutto un saluto dal bulgaro e alla prossima ciao a tutti